Si chiama I vaccini tra scienza e coscienza ed è una ricerca svolta dal gruppo Salute Donna dell'Udi di Ferrara presentata in una conferenza pubblica in residenza municipale per verificare e far conoscere le motivazioni che determinano l'adesione o il rifiuto dell'offerta vaccinale nella nostra provincia. Il nostro obiettivo è stato quello di creare un... e non è stato, è quello di creare un'alleanza fra quello che è il mondo informativo, legislativo, perché anche a livello nazionale si sta pensando ad un piano che non interessa solo i territori, ciascun territorio, per esempio l'Emilia Romagna ha deliberato su questo aspetto, sull'obbligo vaccinale per i bambini della primissima infanzia. Però, ecco, il piano nazionale tenta di vedere l'importanza di applicazione per tutta la popolazione in tutte le regioni e questo mi sembra che sia emerso e noi l'abbiamo fatto come obiettivo proprio perché le persone siano il più consapevoli possibile rispetto ai rischi che corrono in tema di malattie infettive. Numerosa l'adesione del pubblico con diverse domande rivolte agli esperti presenti e ai rappresentanti delle istituzioni. È una protezione per tutta la comunità, anche per chi per motivi ovviamente di patologie non può vaccinarsi e rischierebbe anche di ammalarsi più gravemente. Quindi il tema delle vaccinazioni è proprio un equilibrio di responsabilità individuali che vanno ad influire sulla comunità. Quindi quanto ognuno di noi può fare per migliorare la comunità, la salute della comunità. Al centro del tema il calo delle vaccinazioni dovuto negli ultimi anni da timori emersi soprattutto dal web e dai social network che hanno riguardato particolarmente la provincia di Ferrara. Solo Ferrara, anche in Emilia Romagna ma anche le altre province, ma Ferrara dal 2010 al 2015-16 è calato di notevoli punti il discorso della vaccinazione della popolazione. Allora questo significa che è passato dal 97 al 93,5%. Significa che quando non si arriva a quello che è il dato ufficialmente scientificamente riconosciuto del 95% dell'immunità di una popolazione di fronte al rischio malattie infettive, se si abbassa questo dato i rischi naturalmente sono maggiori. Quindi noi in 5-6 anni siamo sotto quel livello di immunità di gregge.